Benvenuti al consueto appuntamento Covid. Io passo subito la linea a Marco che ci relaziona dei dati di oggi. Sei pronto? Che ti ho preso un po' il contropiede. Prontissimo! Vai! Sì, ti ho visto proprio buttarti sul mixer e iniziamo così velocemente, però puntuali come non mai anche oggi, anche questo giovedì sera, per l'appuntamento consueto con l'approfondimento dei dati aggiornati a proprio oggi con il Covid-19 di Entella TV. Iniziamo con, beh, abbiamo una serie di buone notizie, finalmente anche di conferma rispetto agli altri giorni, più a livello nazionale che a livello locale, però anche a livello regionale non possiamo lamentarci, diciamo così. Partiamo subito dai dati nazionali come vi abbiamo abituato. Abbiamo da segnalarvi 57.576 nuovi guariti nelle ultime 24 ore in tutta Italia. Cosa vuol dire? Che abbiamo, guardando subito il grafico della variazione dei totali positivi, una nuova forte discesa del valore. Siamo sempre in ambito negativo, quindi il numero dei totali positivi cala, da quando è sceso sotto lo zero sono tutti dei numeri che scendono, del numero che scende, il numero degli attuali positivi decresce, e guardiamo subito la curva dell'andamento nazionale dei attuali positivi. Siamo intorno sempre ai 107.000, ma il plateau è confermato, cioè l'appiantimento è confermato, addirittura comincia, come abbiamo detto, una leggera decrescita. Questo è molto importante, visto anche insieme all'andamento, come vediamo sempre, dei dimessi, dei guariti, che abbiamo appena detto, che è in forte accelerazione. Mi ha superato oggi le 3.000 persone guarite nelle ultime 24 ore, lo ricordiamo, stiamo parlando di giorni, parliamo di dati giornalieri. I deceduti, anche loro, purtroppo salgono, adesso vedremo il valore, però in maniera più rallentata. Infatti poi il risultato totale è quello che abbiamo appena menzionato. Parlando subito di dati regionali, guardiamo subito il cartello 00, il nostro cartello diffuso da Regione Liguria e da Alisa, che fa il riassunto un po' di tutti i valori che ci riguardano come Regione Liguria. Abbiamo raggiunto i 4.856 attualmente positivi, ovvero sia 45 in più di ieri, e questo ci consola perché c'è un rallentamento nella crescita rispetto a ieri, che avevamo registrato 50 persone in più rispetto all'altro ieri. Sono sempre valori che si discostano uno con l'altro di poco, però sono sempre valori, attenzione, qui in crescita, non siamo sempre in controtendenza rispetto all'andamento nazionale, però di numeri bassi. Andiamo a vedere i pazienti in ospedale, sono 78 in meno di ieri, questo è un altro dato importante, uno in meno di ieri anche per quanto riguarda la terapia intensiva, 68 in più però, eccoli qua, sono tutti a casa in poche parole, 68 in più di ieri, le persone positive ma a domicilio. Abbiamo parlato più volte anche ieri e l'altro ieri di cosa vuol dire tenersi, rimanere in casa con un paziente covid positivo che se è a domicilio con gli altri membri della famiglia molto probabilmente andrà a contagiare, se non hanno già fatto, anche gli altri membri della famiglia. Quindi siamo lì che vediamo questi numeri che continuano a rimanere in stato positivo, cioè in stato di aumento rispetto al giorno prima, anche per questo motivo. Se il domicilio, cioè la quarantena definita tale, fosse vissuta all'interno di un ambito isolato da tutto il resto del mondo, sarebbe a medio termine avvantaggioso perché? Perché così avremmo una risoluzione individuale della malattia, della porzione che si trova a domicilio positiva, e non andremo a infettare gli altri membri della casa, dell'appartamento. Parliamo di guariti, 55 in più di ieri, un valore che è più alto della crescita di oggi, più alto rispetto alla crescita di ieri, quindi va bene così. I non più positivi, quindi secondo tampone negativo, 61 in più di ieri, questo è un altro valore importante, ma soprattutto abbiamo da segnalare 25 persone che non ce l'hanno fatta con il Covid. 25 in più di ieri, ieri avevamo avuto l'accelerazione maggiore, erano 32 le persone decedute, siamo sopra, seppur di poco, le mille persone che non ce l'hanno fatta in Liguria. Guardiamo i tamponi, abbiamo raggiunto il record assoluto dei tamponi. In Liguria cita, riporta il valore di 1852 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Stiamo sfiorando i 38 mila tamponi totali e la cosa è importante, positiva, perché ricordate solo i primi giorni di aprile, quando era difficile arrivare a 800-900 tamponi nell'arco di una giornata. L'abbiamo più che raddoppiato questo valore, quindi è un valore importante da sottolineare. Guardiamo in ambito più locale il valore dell'ASL di competenza, l'ASL 4 segna 54 persone in ospedale, ieri erano 57 e sempre 6 in terapia intensiva. La maggior ragione, noi possiamo adesso anche andare a distinguere i due ospedali dell'ASL 4, Sesti Levante e Lavagna, perché purtroppo anche Lavagna negli ultimi due giorni ha registrato un reparto Covid, anche se piccolo, anzi addirittura dovrebbe essere già stato poi definitivamente chiuso e sanificato, però ai dati di oggi abbiamo due persone positive all'ospedale di Lavagna e 52 persone positive all'ospedale di Sesti Levante, in un totale appunto di 54. E 6 all'ospedale di Sesti Levante sono in terapia intensiva. Questo per andare più nel dettaglio. Andiamo ancora più nel dettaglio con i dati, ad esempio, quelli chiavaresi. Come sempre vi aggiorniamo quasi sempre i dati della cittadina di Chiavari. Oggi abbiamo una stabilizzazione per quanto riguarda gli isolamenti fiduciari, che sono sempre 77 persone che sono venute a contatto con una persona positiva al coronavirus e quindi per legge devono stare 14 giorni in casa isolati. E sono 77 queste persone. Abbiamo poi 95 persone positive al virus. Sta scendendo il numero delle persone chiavaresi positive, due meno rispetto a ieri e la cosa è importante, l'importante è che decresca questo valore. 88 di queste persone sono in quarantena in casa, tra cui anche le persone del ricovero Torriglia, e 7 sono invece, come dicevamo prima, anche per Chiavari, a 7 chiavaresi in ospedale. Quindi abbiamo anche una persona in più positiva come bambini. abbiamo un bambino di 10 anni che risulta positivo. Speriamo che sia un falso positivo, che poi magari col secondo tampone risulti già poi negativizzato. Per quanto riguarda le grafiche, Marco, mi hai aiutato col grafico 00, ora partiamo con quello che riassume gli andamenti nazionali dei numeri di oggi. Con lo grafico 01 partiamo subito con il dato dei nuovi tamponi positivi. 2.646, ripetiamo, sono tamponi che noi menzioniamo, non sono persone. 2.646 persone, dagliela, tamponi positivi in tutta Italia. Un leggero rallentamento rispetto a ieri. Se guardiamo il grafico 2, che è quello che interessa il montante degli attualmente positivi, che abbiamo detto che è decresciuto in maniera importante, oggi è decresciuto di 10 unità, di 10 persone, quindi anche questo è un, no scusate, ho sbagliato, non di 10 persone, tutt'altro, di 851 persone, ho sbagliato, 851 persone, quello era il valore di ieri, 851 persone che vanno a togliersi, detto volgarmente, al montante degli attualmente positivi. Quindi siamo già al quarto giorno di zona verde, come vedete dal tabella 0.3 Marco, non scusami, con la tabella 0.3 vediamo che per il quarto giorno consecutivo abbiamo finalmente un, non solo un rallentamento dell'aumento, ma proprio un rallentamento e una sottrazione di questi totali positivi attuali. Se guardiamo col grafico 0.2 invece della percentuale di positivi rispetto ai tamponi fatti, oggi abbiamo battuto un altro record a livello nazionale, siamo arrivati a 3.9%, il valore che vedete nell'estrema destra degli istogrammi. Oggi vedete l'aprile 3.9%, cosa vuol dire? Vuol dire che su 100 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, solo 3,4 tamponi sono risultati positivi, tutti gli altri negativi. Questo è un valore molto, molto importante, perché è anche quello che ci permetterà di tenere, diciamo, avere il polso sulla fase 2, perché se noi riuscissimo a mantenere questi valori anche una volta che è iniziata la fase 2, vuol dire che la fase 2 è stata studiata bene e l'italiano medio si comporta bene rispetto alla legge e tutto quanto. Quindi ricordiamoci che siamo in una fase molto importante di decrescita dei positivi ritrovati tramite tamponi eseguiti ogni giorno. Per quanto riguarda adesso il numero dei tamponi, prendiamo la tabella 04, Marco, abbiamo da farvi vedere un altro record, quel record che porta a 66.658 tamponi fatti nella sola giornata di oggi. Pensate, nella sola giornata di oggi abbiamo raggiunto i 66.658 tamponi fatti, portando il montante a circa 1.550.000 tamponi dall'inizio della pandemia in tutta Italia fatti. Questo è un valore importante perché vuol dire che li stiamo andando a cercare, ovvero sia che abbiamo la forza di testare più persone possibile e quindi avere sempre una mappatura sempre più veritiera possibile. Guardiamo il grafico 0.5, c'è gli histogrammi 0.5, quelli in nero che purtroppo rappresentano i deceduti, giorno per giorno, non c'è stato purtroppo in questo caso un calo e come abbiamo detto più volte qua il calo lo registreremo più tardi rispetto agli altri numeri che stiamo registrando, 464 morti per Covid o col Covid nella sola giornata di oggi. Parliamo invece di una notizia positiva col grafico 0.6, abbiamo sempre una nostra serie di histogrammi verdi e oggi il record, il record di 3.033 persone guarite nelle ultime 24 ore. Questo è un valore molto, molto importante. Speriamo che continui a crescere. Il grafico 0.7, velocemente siamo tutti anche lì quasi in zona verde, abbiamo solo giusto un paio di giorni ancora in zona rossa sulla sinistra. Oggi abbiamo 117 letti liberati dalla terapia intensiva in tutti i nosocomi e gli ospedali italiani. Un'altra notte importante perché ormai la situazione di stress dei nostri ospedali è quasi un lontano ricordo. Addirittura in Lombardia anche non si registrano situazioni stressanti, cioè situazioni molto complicate da gestire le persone in terapia intensiva. molto bene e lo vediamo anche graficamente con la tabella 0.8 che sta continuando a scendere verso lì e sulla destra con 2.267 persone ad oggi ricoverate in terapia intensiva. Sempre un numero importante ma in costante discesa. Guardiamo la tabella 0.9 che riporta i ricoverati con sintomi, cioè quelli che sono in ospedale ma non in terapia intensiva. vedete che siamo sempre in zone verdi, addirittura 934 in meno, un altro record, eccolo qua, un altro record è quello di oggi, quindi 934 letti in, diciamo, degenza ospedaliera liberati per il Covid-19. Questo è un altro valore, diciamo, che dobbiamo di cui andarne fiero. Guardiamo un attimo il cartello 11. Abbiamo parlato prima di tamponi o persone, persone o tamponi, tamponi o persone. Eccolo qua. Il valore ufficiale della protezione civile dice che sono stati fatti dall'inizio della pandemia 1.579.909 tamponi e quante persone sono state testate? Bene, abbiamo il valore. Due terzi esatti, ovvero sì a 1.052.577 persone hanno fatto il tampone, ok? Sono state tamponate. Chi una sola, perché è stato subito negativo, chi più di una, comunque 1.052.000. Questo è un dato importante. Torniamo a parlare di nostra regione, dati della nostra regione, magari confrontandoli con l'andamento di altre regioni. La grafica del cartello 12, Marco, gentilmente, ci può aiutare a mettere a confronto i positivi della, i totali positivi della Lombardia, che è la linea più alta rossa, il Piemonte, che è quella arancione a metà, e la nostra regione Liguria. Come vedete, noi abbiamo ormai raggiunto un plateau di stazionario leggermente in aumento in realtà, però è molto più rallentato questo aumento rispetto alle altre due regioni, diciamo, nostre cugine, tra virgolette, ovvero sia il Piemonte e la Lombardia, che stanno ancora registrando aumenti del loro montante rispetto alla media nazionale, quindi stiamo ancora salendo. Quando parliamo poi di fase 2, o comunque sia contagiosità di questo virus, eccetera, eccetera, che tra l'altro è stato confermato anche questa mattina da un'intervista, che ormai la virulenza, la forza di questo virus sta perdendo un po' di ciò che aveva all'inizio della pandemia, quindi anche le stesse persone che arrivano negli ospedali, non solo Liguri, ma in generale di tutta Italia, stanno avendo situazioni difficili, ma prima di tutto, come abbiamo dimostrato, sono meno come persone che arrivano negli ospedali, ma sono anche più facilmente curabili, perché si vede che il virus sta perdendo la propria potenza. Ma parliamo di quanto una persona può ancora contagiare ad oggi una volta che sia positiva, cioè quante persone può contagiare una persona positiva, il famoso R con 0. Allora, l'R con 0 lo vediamo con la tabella 13, Marco, quella con gli histogrammi colorati, che ogni linea rappresenta una regione. Vedete che ci sono, è messo in ordine di valore dal più alto al più basso di R con 0. La linea con i puntini è il valore 1, il valore 1 inizia dalla ricrescita, cioè quando siamo sotto l'1 vuol dire che la pandemia non solo è sotto controllo, ma addirittura non c'è una fase di contagio fra le persone. Noi come Liguria, lo vedete, siamo praticamente a 1 insieme alla Calabria e poco sotto la Valle d'Aosta. Siamo forse leggermente sopra l'1. La media, ricordiamoci, che in Italia oggi è sul 0,8 circa. Quindi siamo ancora leggermente sopra la media, ma va bene così. Guardando un po' il valore R con 0 con la tabella, la grafica 14, la grafica 14 fa vedere vari colori delle singole regioni Liguri e ogni colore, diciamo, riporta con sé il valore di questo R con 1. Vediamo che i colori più caldi, ovvero sia l'arancione, il nocciola, eccetera, vuol dire che siamo sopra l'1 o siamo intorno all'1 con il giallo. La Liguria vedete che è praticamente sull'1 insieme al Molise e la Campania e la Calabria. Mentre ci sono regioni più in alto come il Piemonte, ma anche la Puglia e l'Abruzzo e regioni nettamente sotto o abbastanza sotto l'1 come il Friuli, l'Emilia, la Toscana, la Sardegna, la Basilicata e il Trentino Alto Adige. Naturalmente il record per ora lo sta registrando l'Umbria con 0,4 di valore che abbassa notevolmente la media poi nazionale. Questo era per farmi un, diciamo, uno scursus di questo R con 0 che non è uguale in tutte le parti non è uguale in tutte le parti d'Italia ma varia in base a vari fattori perché non è facile poi calcolare questo valore R con 0. infatti io lo prendo tu cur da fonti che riteniamo attendibili e sono loro che calcolano questo fattore. Hai domande Marco? No no, vai tranquillo. Speriamo di diventare colorati come allora prima di speriamo di avere il colore dell'Umbria. Eh bravo, bravo. Questo è il nostro obiettivo soprattutto per la fase 2. È bravo, infatti. allora prima di salutarci guardiamo gentilmente con l'immagine perché volevo un po' riprendere un po' il come si trasmette l'infezione cioè come il virus può arrivare da una persona infetta a una persona sana con l'immagine che riguarda la trasmissione coronavirus. Fa vedere dalla sinistra la persona infetta che magari tossisce o starnutisce queste goccioline che lui emette vanno nell'aria sotto forma o di bioaeriosol quindi rimane questo ingalleggiamento nell'aria soprattutto in ambienti privi di scambio d'aria come ad esempio locali chiusi locali non climatizzati che diciamo mantengono queste goccioline con potenzialmente anche il virus per anche delle delle ore in aria e quindi possono essere poi inalati direttamente dalla persona sana oppure venire a contatto con queste goccioline nel senso lo starnuto è talmente vicino che ci viene a contatto oppure a contatto diciamo con le nostre mani con la nostra pelle e poi noi con le nostre mani andiamo a toccarci naso, bocca oppure occhi e questo direttamente a contatto con le goccioline oppure le goccioline si sedimentano si riposano su delle superfici come possono essere il tavolo non lo so il volante della macchina piuttosto che qualunque altra superficie poi più è rigida più la superficie trattiene in linea di massima il virus più è porosa stranamente più il virus in superficie rimane meno comunque il virus viene a contatto con la nostra pelle poi noi magari ci andiamo a toccare perché le mani non sono pulite ci andiamo a toccare naso, bocca oppure occhi e noi ci infettiamo quindi spieghiamolo sempre perché tutto questo andamento della diffusione di questo virus giustifica e diciamo porta a dare una ragione al perché noi dobbiamo indossare la mascherina e anche i guanti la mascherina quella chirurgica la indossiamo perché se noi siamo infetti quindi guardiamo l'unico sulla sinistra quelle goccioline non si mettono a viaggiare sia nell'aria sia su delle superfici e i guanti invece servono perché se noi venissimo a contatto con delle superfici o addirittura con le goccioline stesse questi guanti non permetterebbero di toccare la nostra pelle direttamente ma una volta tolto i guanti noi potenzialmente siamo immuni da questo contagio quindi è importante anche l'utilizzo dei guanti ma è più importante diciamo lavarsi le mani spesso e non usare i guanti ma è importante invece se siamo in giro potenzialmente con altre persone attenzione non in giro da soli macchina da soli motorino da soli o a fare una passeggiata uno spostamento da soli lì non serve la mascherina la mascherina serve nel momento in cui noi ci stiamo avvicinando o delle persone si avvicinano a noi e in quel caso lì è giusto a bersela indossarla naso coperto insieme alla bocca per rispettare le altre persone detto questo Marco se non hai domande allora come sempre lo rimandiamo a domani a domani a domani a domani Grazie.